Assessore Donatella, il Comando Vigili Urbani e tutti i vigili hanno inviato una lettera in cui si dichiarano state di citazione nel senso che non faranno lo straordinario elettorale perché la ripartizione dei fondi non è stata equa secondo loro. Siamo a conoscenza di questa situazione, abbiamo ricevuto questa comunicazione di alcuni vigili urbani, però dobbiamo dire un fatto, ovvero che tutte le spese che sono connesse allo svolgimento delle elezioni del prossimo referendum del 17 aprile sono coperte dalla Prefettura. Quindi la Prefettura stanzia un importo a copertura dell'evento elettorale e di questo importo l'ufficio elettorale deve stabilire la ripartizione tra tutti i dipendenti che si occuperanno dello straordinario elettorale. Quindi sono fondi di cui non dispone l'amministrazione ma sono fondi messi a disposizione dalla Prefettura. Pertanto il caposettore degli affari generali e quindi dell'ufficio elettorale con una determina ha stabilito la ripartizione di questi fondi che non è condivisa dal Comando di Vigili. Abbiamo chiesto notizie sul criterio con cui questa determina è stata adottata, secondo il caposettore degli affari generali le ore stanziate e stabilite per i vigili urbani sarebbero assolutamente sufficienti per lo svolgimento del servizio. A questo punto però faremo una nota scritta con cui chiederemo conto al caposettore per iscritto ovviamente di come sono stati stanziati questi fondi e cercheremo appunto di interfacciarci anche con la Prefettura per cercare di risolvere questa problematica. Se i vigili urbani dovessero continuare in questo stato di agitazione, chiamiamolo così, ci sono problemi per lo svolgimento delle elezioni? Dunque ci potrebbero essere problemi perché comunque il trasporto delle schede dovrebbe essere fatto dai vigili urbani però confidiamo insomma di risolvere prima delle elezioni di risolvere la situazione. Grazie. 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 Grazie.